Ponte Javu, io quando ho ascoltato il dottor Fraiese vedo la stessa malafede che avevo io. Io su quattro nozioni, quattro come fa il dottor Fraiese, costruivo dei enormi ipotesi, argomentavo, perché poi parlando con non medici gli facevo credere tutto quello che volevo. Però in malafede, come fa anche lui, omette la cosa più importante, che questo virus, è la prima volta che... Guarda che lei è il rischio di querela mettendo la parola malafede, ha capito? Perché se c'è una persona qui che è in malafede, è sempre stata lei, lei è stato ridicolo quando stava dalla parte dei cosiddetti novax, è altrettanto ridicolo nel momento in cui sta dicendo le cose che dice. Lei non ha nessuna autorità per parlare, anzi francamente, da uomo a uomo, le dico che dopo le figure che ha fatto, dopo le cose che ha detto, come lei torna in televisione, prima a dire alfa e poi a dire omega, ma non ce l'ha un bricero dignità, ma non si vergogna. Sì, allora, mi vergogno di quello che ho detto, certo, se ne vergognerà pure lei, primo o poi. Allora, il discorso era questo, si omette di dire che la prima volta... No, no, tranquillo, io non ho niente da vergognarli, io sono trasparente come il cristallo, ha capito? Sì, guardi, mi querelli, non c'è problema. Qual è la cosa più importante che ha omesso, fra i esi? Omettevo che è la prima volta nella storia dell'uomo, e il dottore lo potrà confermare, che ci troviamo di fronte a un virus che ha delle caratteristiche assolutamente diverse da tutti quanti gli altri. Quindi tutte le ipotesi che possiamo fare, su cui basiamo, quando lui dice le mutazioni, non le mutazioni, in tutti questi seminari, credo anche a pagamento, vadano praticamente... cioè, va a parlare di una cosa che noi non conosciamo. E questo, quando poi porta queste slide, guardi dottore, a me hanno insegnato che va bene, che con questi grandi numeri, che le regioni, il Ministero, l'Istituto Superiore di Sanità, sbagli anche qualche numero, che non sono 200 mila contagiati, ne siano 300 mila. Ma a me, da medico, interessa quello che vedo, quello che vedo nelle terapie intensive, che, come ha detto il collega, si stanno riempendo di giovani. Quello che vediamo e tocchiamo, di fronte a un qualcosa che noi non conosciamo, si può fare solo questo in buona fede, fare prevenzione, e oggi l'unica prevenzione è il vaccino. Perché, dottor Giletti, io voglio dire anche un'altra cosa. Una delle balle più grandi che si dice sono proprio le terapie. Ricordiamolo che i virus, e il collega me lo conferma, non hanno terapia. La terapia è sintomatica. Noi non possiamo mai sapere, tranne qualcuno, l'AIDS, l'epatite C, che poi non abbiamo neanche sconfitto. Quindi, quando parlate di terapia, siete tre volte in malafede. Iniziamola a dire a questi Novaks, che le terapie curano, ma non hanno nessuna certezza. L'unica forma di prevenzione oggi è il vaccino. E deve riguardare tutti, perché il virus, così come oggi, controlla tutti. Quindi, la finisca di basarsi su questi quattro piccoli concetti, e inizia a parlare seriamente. L'antigene di questo vaccino è di due anni fa. Darlo oggi non serve veramente a nulla. Se lei non ha neanche la cultura medica per comprendere questo, mi stupisco che lei sia qui a parlare. Un antigene di due anni fa, la Omicron è completamente diversa, smettetela di prendere in giro la gente, perché non tutti i colleghi sono stupidi, sa? Che cos'è l'antigene? Vogliamo spiegarlo in modo semplice? Glielo spiego io molto facilmente che cos'è. A me non chieriamo le cose. L'antigene è la forma che ha, diciamo, la spike. La spike alfa, quella per cui abbiamo fatto l'anticorpo, non c'è più. È cambiata nel corso del tempo continuamente. Arrivare fino all'odro, che è completamente diversa. Per cui non offre nessuna protezione. Si vada a vedere i dati da Israele sulla quarta dose, prima di parlare a me di scienze e di dati. Vada a studiare perché è il caso. Anzi, faccia una cosa. Rimanga a casa perché di uomini come noi il paese non ha bisogno. Allora, guarda.